Buonasera e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il telegiornale Per i Sordi. Più di 300 manifestanti per le vie del centro di Firenze nell'ambito dell'iniziativa contro l'alternanza scuola-lavoro organizzata in varie città d'Italia in segno di protesta dopo la morte del sedicenne Giuseppe Lenoci. I giovani hanno intonato cori contro il premier Draghi e Confindustria. I manifestanti si sono radunati in piazza Adua nei pressi della sede proprio di Confindustria e da lì hanno cominciato a muoversi con bandiere e striscioni. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre agli studenti, anche i lavoratori di alcune aziende dell'area metropolitana fiorentina tra cui la GKN, Nuovo Pignone ed Esaote. È stato sorpreso dai carabinieri mentre stava cedendo ad un trentenne alcuni grammi di eroina per un corrisportivo di alcune decine di euro. Per questo un ventenne è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Prato. Il ventenne, di origine pakistana, residente nel capoluogo Laniero, già noto alle forze dell'ordine, comparirà in tribunale per la convalida assurata dell'arresto in rito abbreviato mentre l'inquirente verrà segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Nascosto nel giaccone, aveva un tirapugni e sotto il sedile dell'auto sulla quale viaggiava un coltello con una lama di quasi 20 centimetri ed una mazza da baseball di legno ma è stato controllato dalla polizia stradale di Viareggio e successivamente denunciato. L'uomo, un 45enne residente nella provincia di Genova, è stato fermato a bordo di un'utilitaria che transitava dentro l'area di servizio Versilia in direzione Genova. Il materiale recuperato è stato sequestrato. A 16 anni di distanza dalla scoperta dell'omicidio dei due fratelli Angelo ed Ettore Talarico, poi sepolti in una buca in un bosco a Terranuovo a Bracciolini, in provincia di Arezzo, dieci persone sono state indagate dalla DDA per omicidio in concorso e associazione mafiosa. Secondo quanto riporta il Quotidiano alla Nazione, anche i dieci indagati sarebbero calabresi. L'iscrizione nel registro degli indagati è finalizzata alla comparazione del DNA da eseguirsi con incidente probatorio fissato per l'8 di marzo. Ladri di materiale elettrico a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, in fuga con 16 quintali di rame. Secondo quando emerge, il colpo sarebbe stato messo a segno nel capannone dell'ingrosso in zona Santa Fiora durante lo scorso weekend. Le indagini hanno evidenziato come i ladri, sicuramente una banda, abbiano manomesso il cancello elettrico, forzato una delle porte del magazzino e probabilmente con l'ausilio di un palo, portato via rotoli e bobine di cavi elettrici nuovi per un peso complessivo di oltre 16 quintali, materiale che una volta sul mercato ha un valore di circa 13 mila euro. Al vaglio degli investigatori, l'esame delle telecamere per rintracciare gli autori del colpo. Siamo adesso alle ultime notizie sul Covid. I nuovi casi in Toscana sono 3.324, l'età media è di 37 anni, i decessi 28. I ricoveri sono 1.044, di cui 66 in terapia intensiva. Nuova visita il prossimo 21 febbraio all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Lo scopo è un sopralluogo nei locali del pediatrico fiorentino che ospitano un'attacca all'avanguardia, acquistata con fondi messi a disposizione della struttura commissariale. Le organizzazioni sindacali hanno incontrato per la prima volta il nuovo amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio. I temi caldi partono dal confronto con il sindacato aziendale che chiede alla dichiarezza sulla strategia del gruppo, sul nuovo piano industriale, sull'aumento di capitale e sulla proroga della permanenza dello Stato nella proprietà della banca. I sindacati puntano sul mantenimento dell'integrità societaria e organizzativa del gruppo, la conservazione dell'attuale insediamento territoriale della banca e la valorizzazione del marchio. Inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali e normativi e l'implementazione della loro professionalità e concludono, imprescindibile, un'assunzione di responsabilità da parte dell'azionista di maggioranza tale da chiarire definitivamente le proprie intenzioni circa il futuro del gruppo. Il 25 febbraio il servizio della tramvia di Firenze potrebbe subire delle riduzioni a causa dello sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori del trasporto pubblico. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati. Motivazione? Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre del 2017, oltre al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali. Sono iniziate le operazioni di sradicazione dei muffloni residenti all'isola del Giglio, nel Parco Nazionale dell'Arcipelago. I primi animali hanno trovato accoglienza presso il Centro di Recupero Fauna di Semproniano e di rifugi individuati dall'AV e WWF dove saranno loro garantiti cure e protezione fino a fine vita naturale. e quanto fanno sapere in una nota l'AV e WWF. Il Museo del Calcio di Coverciano celebra il 55esimo compleanno di Roberto Baggio con alcuni cimeli del suo percorso con la Nazionale. È una collezione che fa rivivere la sua storia in azzurro, dagli scarpini del Mondiale Italia 90 alla maglia numero 10 della partita amichevole Italia-Finlandia del 1994. Al Museo del Calcio di Coverciano a Firenze, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, non mancano i numeri 10 raccontati attraverso i cimeli di grandi campioni come Rivera, Antonioni, Maradona, Del Piero e Totti. E prima di lasciarci uno sguardo alle previsioni del tempo per domani sabato in Toscana, il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, possibilità di deboli piogge o piovigili sulle province settentrionali, più probabili sui rilievi. Venti meridionali, deboli nell'interno, moderati sulla costa e sui rilievi. In attenuazione, in serata, i mari saranno mossi, le temperature, minime in ulteriore lieve aumento, massime pressoché stazionarie, o un lieve calo al nord della regione. E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi ai prossimi appuntamenti con il telegiornale per i sordi. Arrivederci.